Ci sono degli obblighi di legge in termini di trasparenza e anticorruzione, però a me la cosa che piace sottolineare è che il Comune di Desio, ben prima che uscissero le norme che hanno obbligato gli enti ad attivarsi su questo filone, già l'aveva fatto. Mi piace ricordare che con il mio insediamento da subito tutta la documentazione relativa agli atti dell'amministrazione e comunque degli uffici interni e dei termini sono stati praticamente nel giro di sei mesi rese tutte disponibili online e quindi da allora prima ancora che ci fosse un obbligo di legge tutti potevano accedere alla stragrande maggioranza degli atti assunti al cittadino. Per quanto riguarda poi gli obblighi e quali sono le azioni che stiamo portando avanti in termini di trasparenza e di conseguenza anche di prevenzione della corruzione perché dove c'è una trasparenza elevata, un'accessibilità o una possibilità di maggior controllo da parte dei cittadini o delle associazioni ovviamente il rischio di corruzione si abbassa notevolmente. Quello che continueremo a fare è quello innanzitutto della formazione interna sul personale. Nell'ultimo anno sono state fatte oltre 230 ore di formazione specifiche su temi legati alla trasparenza della corruzione come legate al tema delle gare d'appalto, all'etica del lavoratore, è una logica di condotta corretta così come sulla gestione digitalizzata della documentazione che permette poi di rendere i documenti molto più accessibili e trasparenti. Continueremo sulla trasparenza e sull'accessibilità degli atti, è in programma una rivisitazione completa del sito internet che permetterà in maniera molto più facile rispetto a quello che avviene oggi di poter accedere alla documentazione che riguarda l'amministrazione di Desio. Ci sarà una grande spinta sulla l'accessibilità sempre più di servizi per il cittadino direttamente dal computer quindi da internet in modo tale che anche questa comunicazione e questa relazione tra lente si allarghi sempre di più nelle ore della giornata, così come faremo delle giornate proprio aperte sui cittadini, la giornata della trasparenza che stiamo organizzando e sarà credo tarda primavera e dove focalizzeremo proprio i temi formativi per i cittadini proprio sulla loro istruzione per accedere alle informazioni dell'ente. Ovviamente continueremo a favorire la possibilità per cittadini e per dipendenti di segnalare eventuali condotte non idonee, non corrette, in questo c'è un responsabile per la prevenzione della corruzione della trasparenza che è il segretario generale e quindi ci sono poi degli indirizzi mail specifici interni che possono essere utilizzati e che sono di accesso esclusivo del segretario che quindi poi diventa l'elemento garante per chi eventualmente vuole fare segnalazioni di questo tipo. Ecco, la fase di pubblicazione si è conclusa, abbiamo ricevuto una sola proposta però questo non è né positivo né negativo, è semplicemente indice di una cosa che deve entrare nella mentalità delle persone, il fatto che il proprio ente, il proprio comune debba essere sempre più trasparente e accessibile e che questa trasparenza non può prescindere anche dalla partecipazione della cittadinanza perché ovviamente uno può rendere accessibile facilmente controllabile tutta una serie di atti ma poi ci vogliono i cittadini che ovviamente esercitano questo loro diritto dovera. Quindi l'invito a tutti i desiani ma non solo i desiani ma tutte le persone che vivono in Italia perché questo è un obbligo per tutti i comuni è di frequentare come dire sempre più i siti dei comuni andare a cercare informazioni e se trovano qualcosa che non va di segnalarlo perché poi ci sono anche degli obblighi per attuare e intervenire in tempi prestabiliti nel caso in cui ci sono delle informazioni che devono essere di pubblico accesso e per qualche motivo qualcuna si è dimenticata. È tutto un lavoro nuovo in progress quindi gli errori ci possono stare.